In un parco, stavolta in Italia, non per un gioco, ma per un'esperienza di vita, quella di Soldato per un giorno. Che emozione è andare a provare a guidare te, no, un elicottero? È una sensazione molto bella. Allora noi ti seguiamo, ci fai vedere, eh? Ha ruolato il soldato? Sì. Soldato per un giorno qui nel parco di Magicland, in tanti ci provano come vedete, questa è la postazione in cui viene simulato il volo su un elicottero. E Gidio, ti vedo stesso volando il mare? Sì. Stai cavando bene, ma hai già guidato secondo me un bel elicottero? Sì, sì. Dai, 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 qua sotto, qua, in truca. Bravissimo. Se merita proprio l'attestato. Questo ecco è un circuito, cioè simula che cosa? Questo simula praticamente il Cagsmac, che sarebbe un circuito ginnico militare. Ecco, in questo momento il caporal maggiore la disturbo, cosa sta spiegando? Niente, stiamo spiegando adesso un kit di primo soccorso nella sopravvivenza. Stiamo assistendo in diretta alla scalata di Ilaria, che è questa bambina coraggiosissima. È difficile arrampicarsi? No. No. Come si riesce a far capire, ecco, quei tre, quattro movimenti giusti? Perché non è... Oddio, sicuramente bisogna vederli come si comportano. In base a diversi bambini comunque sono già predisposti.